Sono molto contento di partecipare a questa iniziativa che mette insieme le esperienze accademiche con quelle della pratica operativa. È un punto di partenza importante per lo sviluppo della finanza sostenibile in Italia. Il mio auspicio è che questo tipo di investimenti possa prendere sempre più piede perché in questa maniera le cose possono cambiare per il meglio. Grazie a tutti.